Può un episodio diventare paradigma di una storia complessa e riassumere in sé la trama epica e tragica della Resistenza? Forse sì, o almeno così mi è parso quando questo episodio mi è stato raccontato la prima volta, oltre vent'anni or sono, da Renzo Quoex, onnisciente bibliotecario della Facoltà di Lettere dell'Università di Pavia, ma a suo tempo cassiere delle Brigate Garibaldi dell'Oltrepo. L'impressione si è confermata quando ho letto i ricordi di altri partigiani, da Ferrario a Murialdi a Pietra, incrociandoli con le carte d'archivio. Ma veniamo ai fatti, all'aprile di 75 anni fa, il 12 aprile per l'esattezza verso sera, quando un gruppo di giovani tra i 16 e i 27 anni, studenti tutti, chi universitario, chi liceale, misero a segno niente meno che il rappimento del rettore dell'Università di Pavia, Carlo Vercesi. Erano guidati da Dante Faccioli, un giovane di 19 anni di giustizia e libertà, andarono a cercare il rettore nella clinica di cui era primario a Ostetricia, nell'ospedale San Matteo. Uno di loro, laureando in medicina, lo fece cadere nella trappola, con l'invito a un presunto incontro riservato fuori dall'ospedale. Il rettore vi consentì. Poi, la minaccia di una rivoltella puntata alla schiena, ma era solo il dito indice della mano nascosta nella tasca della giacca, convinse il professore a seguire il commando e tutto filò liscio. Il sequestro fu portato a termine in barca oltre Ticino e poi, superato il Po, sulla canna di una bicicletta, viaggiando di notte per evitare i controlli dei repubblichini e dei tedeschi. La meta, Zavattarello, già in mano partigiana. Fu un vero coup de théâtre, scrive Giulio Guderzo, volto a impressionare le autorità neofasciste a dare loro il senso dell'inevitabile prossima sconfitta. Ma perché rapire il rettore? Beh, non era un rettore qualsiasi, ma un rettore fascistissimo. Insigne per cariche accademiche e politiche. Vercesi, tra l'altro, rivendicava di aver cappeggiato il primo pellegrinaggio universitario al Covo, cioè la visita a Milano, in via Paolo da Cannobbio, ai luoghi sacri, cosiddetti dell'Italia fascista, portandovi in massa studenti, professori, impiegati con fanone dell'Ateneo, tutti in devoto, commosso raccoglimento, dinanzi alla scrivania del duce. Volontario a 53 anni suonati, Vercesi vuole arruolarsi nella brevissima e ignobile ingloriosa guerra contro la Francia, la pugnalata all'erenia a un paese già piegato dalla verma. Poi tornò alla guida dell'Ateneo, confermando la sua fedeltà al fascismo anche sotto la Repubblica di Salò e giurando nelle mani del ministro Biggini. A metà strada, tra un'operazione di guerriglia e una befa goliardica, il sequestro di Vercesi non era solo una dimostrazione della capacità organizzativa delle bande, che colpivano un altro papavero del fascismo, era anche altro. Facciamo un passo indietro, al rastrellamento dispiegato dal comando tedesco nelle valli Staffora e Scuro Passo, nell'Apenino Pavese, tra il novembre e il dicembre 1944. Murialdi lo chiama il rastrellamento dei mongoli, i mongul in dialetto. La sola parola faceva paura e dai paesi le famiglie sfollavano in campagna per proteggere mogli e figlie. Ci hanno mandato contro delle bestie matte, ricorda Murialdi. Mongoli, calmucchi, turchestani, catturati nella campagna di Russia, convertiti e addestrati al combattimento feroce, con libertà di stupro e di preda. Due colonne, 3.000 uomini circa, incendi di cascine, bombardamenti, saccheggi, ma anche violenza e crudeltà contro i civili, anzitutto le donne. Non abbiamo cifre, il silenzio delle vittime e l'oblio dei carnefici coprì quest'altra forma di strage, volta a ferire nel nemico l'onore, la dignità, la discendenza futura. Più nota è la violenza contro le donne che al sud, su vasta scala, presero il nome di marocchinate, perpetrate da truppe coloniali francese e aggregate alla quinta armata americana. La ciocciara di Tessica ne fissa per sempre la memoria. Sull'Apenino, tra Liguria, Emilia e Piemonte, infuria invece la violenza della divisione Turkestan, che alle razzie e alle stragi affiancò una rabbiosa pratica di stupri, perfettamente iscritta nella strategia della guerra ai civili e della politica del terrore, che caratterizzò l'occupazione nazifascista. L'oltrepo fu investito da questa furia e le donne, che ne erano state vittime, si rivolse dai partigiani per rifiutare il frutto della violenza subita. Ecco dunque che la razza del rapimento si chiarisce. Vercesi, ginecologo di valore, era senza dubbio il più adeguato a provvedere e dopo il suo arrivo in Valle Staffora si avvisò la popolazione della possibilità di abortire. Ne, Vercesi ebbe scrupoli di coscienza nel praticare quegli aborti, perché da fascista sapesse bene che l'aborto era considerato dal codice Rocco un reato contro l'integrità e la sanità della stirpe. Ferrario, allora studente di giurisprudenza, descrive il suo rettore, prigioniero a Zavattarello, con un paio di fotogrammi folgoranti, dapprima desolato, convinto di un'imminente fucilazione. Dopo qualche giorno, avvestito con una divisa americana, disinvolto a suo agio tra i partigiani, citava il cognato antifascista Antonio Segni, futuro Presidente della Repubblica. Tanto disinvolto Vercesi da arrivare in quella veste a pavia nei giorni dell'insurrezione e ben deciso a rintuzzare, dopo dall'ora, ogni ipotesi di epurazione per i suoi trascorsi fascisti, citando, tra l'altro, nelle sue benemerenze, proprio l'aiuto prestato ai partigiani dell'oltrepo. Nel dopoguerra Vercesi fu dunque sospeso dal servizio, ma poi, prosciolto, fu riassunto nel marzo 1946. Furono allora gli studenti a protestare contro tale scandalosa continuità e si mobilitarono contro l'ex rettore, che finì trasferito alla clinica ostetrica di Milano, a Mangiagalli. In conclusione, parlare di continuitrata passato e presente non è difficile alla luce di questo episodio, che interseca tanti registri diversi. Il camaleontismo della classe dirigente fascista, l'audacia dei giovani del commando partigiano, la barbarie dell'occupazione, la violenza contro le donne, sempre taciuta, rimossa, considerato un effetto collaterale dei conflitti. Tanto che solo nel 2001 il Tribunale internazionale per i crimini della ex Jugoslavia celebrò un processo per stupro, formalizzando l'imputazione come un crimine contro l'umanità. Nel 1993 la questione degli aborti in Oltrepò tornò inaspettatamente sulle pagine dei giornali anche a Pavia, dopo che il Papa Giovanni Paolo II, rivolse alle donne bosniache stuprate anche alle suore, l'invito a non abortire. Nel 1945 invece persino il vescovo di Tortona, la diocese dell'Oltrepò, aveva osservato un prudente silenzio. I giorni indimenticabili della liberazione A dire indimenticabili quei giorni fu Plinio Fraccaro, un antichista di grande valore, un mai iscritto al PNF, nominato rettore dell'Università di Pavia durante la parentesi badogliana e tornato ad esserlo il 26 aprile 1945 per indicazione del CLN e del comando alleato. Il rettore della liberazione, così si è soliti ricordare Fraccaro, pronunciò per l'inaugurazione dell'anno accademico 1945-46, un discorso di grande patos e di nessuna retorica, fitto di richiami alle vicende di quella bufera cui l'Ateneo, la città, il paese erano a stento sopravvissuti e proteso verso l'albeggiare, disse, di una nuova vita che a tutti avrebbe richiesto una rinnovazio profonda, in virtù della libertà che si tornava a respirare e della responsabilità che essa imponeva a ciascuno, perché, disse, solo chi è libero è responsabile. Tra gli episodi dei giorni dell'insurrezione, Fraccaro ne ricordava tra gli altri due, che sembrano i simboli di due polarità opposte. L'uno era un preludio, un lampo di luce e di energia che agli occhi di molti aveva anticipato l'alba della liberazione. L'altro era un cupo epilogo, un colpo di coda della barbarie che aveva infuriato per anni in città e in campagna. Del primo erano protagonisti tre giovani di giustizia e libertà, Dante Faccioli, 19 anni, già protagonista del sequestro del rettore, Franco Andreani, assistente alla clinica delle malattie nervose, una studentessa di filosofia, Ornella Dentici, sorella di Jacopo, già al fianco di Ferruccio Parri, poi deportato e assassinato a Mauthausen. I tre si erano lasciati chiudere dentro l'università la sera del 20 aprile, eludendo i controlli dei custodi. L'impresa fu poi raccontata in un articoletto con un titolo da film, Una notte in università, ma i particolari li diede Ornella, per iscritto, in una relazione successiva spiegando che si erano nascosti in aula volta al primo piano del palazzo centrale dell'Ateneo, forniti di giornali, colla, vernice e pennelli. Ed ecco, ricordo poi Fraccaro, la sorpresa della mattina del 21, quando all'interno dell'università apparve tutto tappezzato di scritte antifasciste e antitedesche, e la bandiera della ribellione fu vista sventolare sulla specola del palazzo. I tre avevano lavorato tutta notte e avevano issato la bandiera rossa con scritto giustizia e libertà sulla torretta, quella dell'orologio che scandisce le elezioni, la vita dell'Ateneo. Un colore rivoluzionario e un messaggio di libertà, sbandierati in pieno centro, erano un'autentica sfida, proprio in faccia alla prefettura e alla sede del partito fascista repubblicano, con i suoi vessilli neri e il presidio armato. Fu tutto un accorrere da ogni parte di polizia e milizie, dice Fraccaro, un affrettarsi a raschiare e a coprire le scritte. Ornella, destinata a diventare a Pavia, caposcuola degli studi di psicologia nel dopoguerra e mancata nel 2017, scrisse che a intralciare l'intervento della polizia il gruppetto uscito indenne dall'impresa aveva usato l'accorgimento di tirare fili misteriosi sulla rampa che conduceva la torretta, per far credere alla presenza di congegni esplosivi. Il danno e la beffa, insomma, perché il deterrente funzionò a dovere e le autorità chiesero l'intervento degli artificieri. Intanto la città tutta poteva cogliere quel segno di speranza e di incoraggiamento che garriva dall'alto su strada nuova dai tetti dell'università. L'altro episodio che Fraccaro vuole raccontare è del 26 aprile. L'insurrezione stava vincendo a Genova, a Milano, a Torino. Le trattative per la resa dei repubblichini si erano intrecciate il giorno precedente anche a Pavia, in Broletto, in Prefettura, all'Arsenale e pezzo a pezzo erano cadute le postazioni delle brigate nere. Ma non mancavano gli scontri. Nella trattativa si era inserito anche il vescovo, si profilavano tregue e la possibilità di una ritirata tedesca che non insanguinasse la città. Solo a notte fonda, tuttavia, il comando tedesco abbandonò Pavia. Insieme con un'autocolonna, proveniente da sud, si diressero verso Lodi. Tra le vittime è caduto anche un professore, un professore di geografia, Bruno Castiglioni. Nella Cascina Cravino, al limitare nord ovest dell'abitato, quasi in campagna aperta, si erano infatti asseragliati i tedeschi e da quella batteria facevano fuoco verso la città. Il professore parla tedesco e tenta di parlamentare. Si offre dunque, ricorda Fraccaro, di avvicinarsi alla batteria tedesca, per persuadere gli uomini ad esistere dalla lotta. È disarmato. Ha una bandiera bianca. Una raffica di mitraglia lo abbatte. Non muore subito, resta abbandonato sul terreno. Poi tentano di salvarlo con un'amputazione, ma in vano. Si spegne a 47 anni dopo lunga agonia. Fraccaro ricorda che fecero in tempo ad annunciargli nella notte la fine dell'occupazione tedesca. Era un ragazzo del 1898, Castiglioni. Una delle ultime classi di leva chiamate al fronte nella prima guerra mondiale, ma in guerra c'era andato da volontario nel corpo degli alpini e aveva combattuto sul tonale dei Val Posina. Poi, al ritorno, si era immerso negli studi. Era esperto di geografia fisica, gran camminatore, studioso delle Alpi e dei ghiacciai, dell'Appennino, delle valli e dei regimi fluviali. Da capitano dell'ottavo reggimento alpino, nel 1939, durante la campagna per l'annessione dell'Albania al Regno d'Italia, aveva effettuato diverse ricognizioni, aeree, via mare, via terra. A nord di Tirana e Durazzo. Un fondo, donato dalla sua famiglia alla Società Geografica Italiana, raccoglie un corpus davvero straordinario di scatti, di varia natura presi da lui in quelle ricognizioni. Paesaggi, ritratti, luoghi simbolici e strategici. Ora la Cascina Cravino appartiene all'Università ed è sede del Centro Grandi Stumenti. L'Ateneo ne acquisì terreni negli anni 60 e con il progetto dell'architetto Giancarlo De Carlo vi costruì il suo polo scientifico tecnologico. Gli studenti hanno affibbiato nomignoli ai diversi fabbricati. Uno è la nave, quasi un battello arenato tra le nebbie padane. Un altro deve il nome di melanzana al colore del rivestimento. Normalmente ferve la vita in questi luoghi dove si è combattuto in quei giorni di aprile di 75 anni fa. E forse un segno tra i laboratori, le aule e le biblioteche dovrebbe ricordare quei rabbiosi colpi di mitraglia che qui si spararono contro uno studioso con la bandiera bianca. Grazie a tutti.